Il convegno film del 2023 horror commedia è uscito oggi sulla piattaforma streaming Netflix che parla appunto di questo gruppo di persone che si raduna in un convegno per sistemare gli ultimi accordi per la creazione di questo centro commerciale ma c'è quest'assassino che inizierà ad uccidere uno per uno Perfetto, la ritenzione di oggi finisce qui, noi ci vediamo alla prossima scherzo Più che altro ho davvero poco da dire, è un film anonimo Questa è la definizione principale, un grandissimo boh perché è un film che ha dei pregi ma anche dei difetti belli evidenti e non sai se gli sia piaciuto o meno ma personalmente non mi è piaciuto Il film tende anche a essere una commedia, è la prima parte ha dei momenti anche un po' cinepanettonici Ci sono delle battute un po' stupide così Per quanto il narrativamente, registicamente è tutto molto distaccato, freddo, inquadrature fisse quindi comunque vuole fare anche un po' la commedia sofisticata Ma il problema non è quello, mi spiace dirlo, però il problema è che è proprio un prodotto che a volte può anche far divertire, intrattenere anche le scene d'omicidio carine ma altre volte ti lascia davvero così Nullo, annoiato Tutta la parte slasher è davvero noiosa Perché non ha degli spunti, è davvero lente, è davvero quasi priva di un minimo di charme Va bene il voler magari allontanare lo spettatore dai personaggi che stai vedendo Però comunque devi provare qualcosa, provi noia Prendete ad esempio Dari Aster, i personaggi di Dari Aster sono tutti molto distanti dallo spettatore Eppure lo spettatore ci empatizza, perché? Perché comunque le vicende che vivono, c'è una tensione di fondo Qui davvero nulla E anche intricata ad un certo punto la trama, succede un casino Qual è un problema? Non succede davvero un cazzo E questo è il problema del film Quindi personalmente è un grande buco nell'acqua, non è una merda Perché comunque ci prova esteticamente Qualche scena carina c'è, qualche scena d'omicidio simpatica È un po' di ironia, sì, comunque si vede che c'è un piccolo lavoretto dietro Però poteva essere molto di più, soprattutto narrativamente E soprattutto emotivamente dovevano lavorarci molto molto di più Perché io non posso empatizzare con dei personaggi che sono davvero dei blocchi inutili, noiosi È una sceggiatura che nemmeno è così lineare come vorrebbe essere In un tanti un po' intricato ad un certo punto Quindi sinceramente è un film che sconsiglia abbastanza me E se te lo vedi per aspettandoti con i tuoi amici una seratina con la pizza o con la ragazza Derti l'horror ti annoi, ti addormenti dopo 25 minuti Quindi non è nemmeno quel tipo di film che dice vabbè serve per quello No, per quello davvero perdi amici e perdi la ragazza Perché si annoiano tutti quanti Però vabbè, fatemi sapere la vostra su questo film Noi ci vediamo alla prossima questa mini recensione Perché davvero non ho altro da dire Come ho già detto ci provano un po' esteticamente narrativamente Però la relazione è troppo confusa Grazie